A via la settima edizione del premio giornalistico Estra per lo sport, l'energia delle buone notizie riservato anche quest'anno a carta stampata, web e blog, televisione e radio. Estra è il nuovo title sponsor della Firenze Marathon, giunta alla quarantesima edizione la classica di novembre, pronta ad attendere oltre 10.000 persone, si chiamerà ufficialmente Estra Firenze Marathon. Vinci la partita straordinaria in viola, si chiama così il concorso lanciato da Estra Energie con ACF Fiorentina rivolto a coloro che sceglieranno di aderire all'offerta Estra Facile Luce Gas sul mercato libero. Il comune aretino di Civitella in Valdichiana passa al metano, La trasformazione della rete da GPL a gas metano avverrà ad opera di Centria, la società di distribuzione del gruppo Estra.